Ultimi dieci giorni di campagna elettorale, tanta voglia di far conoscere i propri candidati alla città di Biceglie. Così Gianni Casella ha voluto tenere in piazza San Francesco un comizio per permettere ai propri candidati di presentarsi e presentare il proprio programma. Stiamo spingendo al massimo perché sentiamo la vittoria vicina e quindi stiamo cercando di spingere al massimo con tutti i candidati. Sono 239 gradiatori che si stanno muovendo su tutto il territorio presentando prima il nostro programma e poi chiedendo il voto. Dopo i candidati è stato il turno di Casella che ha lanciato l'idea di un gemellaggio con Ferrara. Ho letto con soddisfazione delle borse di studio istituito dal Conservatorio di Ferrara intitolate l'Associazione Musicale Fonè presieduta al dottor Antonio Marzano. Ha detto il candidato sindaco del centro-destra. L'Associazione ha inteso stringere un forte legame con la città estense in seguito al terremoto che colpì l'Emilia due anni fa. Sto pensando soprattutto al bene della città. Stiamo presentando un nuovo programma per la città alle fasce più deboli sul lavoro, sull'occupazione, sulla risoluzione dei problemi. Questo è quello che ci interessa. Questa campagna elettorale purtroppo è scesa su aspetti personali, non me l'aspettavo. Chiaramente da parte nostra c'è un rispetto prima del territorio, della gente, di tutte le problematiche che purtroppo esistono nella nostra città. Noi stiamo pensando sin dal primo momento in cui è iniziata la campagna elettorale a questo. Lascio agli altri inveire, offendere, ma questo fa parte forse del loro DNA.